Siamo uscendo direttamente dalla piazza. Siamo uscendo direttamente dalla piazza. Siamo uscendo la piazza. Siamo nella piazza meravigliosa di Vipiteno, qui sulle piazza. E con questo video andiamo all'interno dei mercati di Vipiteno che sono molto tipici. Quando siete qui in questa area dell'Italia, del nord dell'Italia, e se siete nero di Bolzano, dovete anche arrivare a Vipiteno per visitare i mercati di Natale. Guardate la bellissima piazza. E ora siamo entrando nel reale mercato di Vipiteno. Siamo 10 o'clock in mattina e questo è il momento in cui apriano il mercato. Vipiteno, non vedo molti persone qui, perché sono appena aperto. Vipiteno. 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 il mercato principale dove troverete il mercato di crismazzo quando arrivi vedete troverete ogni cosa per l'interno troverete freddo la città tipica come salami e cheese vedete qui ci sono dei salami e poi anche qui in Dipitano puoi servire la città ci sono delle polenta il bread di brezzel e il mercato di crismazzo 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 sono 10 ore ma vedete è abbastanza buono qui 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 ci sono il mercato di crismazzo il mercato di crismazzo ci sono poi ci sono anche delle tavole quando è molto freddo e non vuoi restare dentro poi puoi anche avere la tavola dentro del mercato di crismazzo fuori il mercato di crismazzo il mercato di crismazzo parla il mercato di crismazzo quindi ragazzi vedete molti prodotti che trovi solo qui non sono prodotti che trovi in Italia ma è solo in questa occasione che potete trovare questo tipo di prodotti artesani tipici di Elpis grazie grazie giovedì grazie 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 grid Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. amici. a tutti. a tutti. a tutti.